Buongiorno, sono Laura Antichi. Oggi vi volevo presentare un tutorial per realizzare immagini panorama 360 gradi con Street View download 360 da PC oppure da Mac. Ci si deve collegare al sito che vedete qui indicato che si chiama streetviewdownload.eu. Adesso noi ci collegheremo al sito dove troverete tutte le istruzioni passo per passo per poter realizzare la vostra immagine panorama a 360 gradi. Vedete che trovate tutto quanto il tutorial in inglese. Il dovete per prima cosa, come primo step, come vi ho indicato in queste brevi note che ho scritto e che vi metterò sotto il video. Come step 1 si deve scaricare Street View download 360 gradi sul proprio PC o su Mac con questo indirizzo e vi verrà restituita proprio l'applicazione. Questa è l'applicazione dove andrete infatti ad inserire i vostri dati su PC. Innanzitutto ci colleghiamo, dobbiamo collegarci a streetestreetview.com, a questo indirizzo. Aspettate che mi collego, dove l'ho messo? Ecco, sulla mappa che vedrete andate a cercare la località e vi verranno mostrate ad esempio i luoghi privilegiati della città, più importanti della città. In questo caso ho scelto Brescia, ho spostato l'omino su Brescia, piazza della loggia e quindi vedete questa è piazza della loggia di Brescia. Ok, mi dà con piazza della loggia un panorama ID che posso copiare, lo copio. Ok, apro l'applicazione sul mio computer, segno il panorama ID che ho copiato, lo incollo. Ok, scelgo la... ho sbagliato, non l'ho incollato. Scusate... Ecco, ho copiato adesso, lo incollo. Ok, scelgo dove salvare il mio panorama, per prima cosa scelgo anche la risoluzione. Io in questo caso lo scelgo, nel mio caso, la bassa risoluzione. Poi, come vi dicevo, scelgo la location per salvare la mia immagine e metto un nome, piazza, loggia, Brescia, salvo. Clicco su download panorama e vedete che mi viene restituita la piazza che ho cercato. Ok, come immagine 360 gradi. Vi volevo presentare un uso di questa immagine, panorama 360 gradi, ad esempio in ThinkLink. Se avete il premium ThinkLink, potete creare, come vedete, uploadare delle immagini 360 gradi, VR Image. Allora vado a cercare la mia immagine, l'immagine che avevo creato di Brescia, piazza della loggia. Adesso la trovo. Ecco. E la carico, male elogia, su ThinkLink. Vedete che è un'immagine che mi viene caricata a bassa risoluzione, quindi non è tanto chiara, va bene. E comunque è un'immagine interessante perché è 360 gradi, è un panorama 360 gradi. Se io volessi descrivere questa città agli studenti per una gita scolastica taggando dei punti di riferimento sulla mappa o aggiungendo dei video, potrei con il più aggiungere dei contenuti. Ad esempio, potrei aggiungere, ad esempio, un video su Brescia. Posso in effetti uploadare un image, un video, oppure embeddare, mettere anche il codice embedd. Infatti, posso uploadarlo, ma in questo caso non voglio uploadare. Invece voglio incollare il codice embedd. Ho trovato il video che è un giorno a Brescia da turisti. Vado in condividi e incorpora. E qui copio il codice embedd. Copia. Ok. E ritorno quindi sul Muting Link e incollo il codice embedd. In colla. E come vedete il video mi si presenta su questa immagine panorama 3D. Quindi posso cambiare l'icona, ad esempio, per dire che è un video e vado nel handle per scrivere visita, ad esempio, a Brescia. Mettiamo visita guidata a Brescia. salvo e vedete la presenza su questa immagine 3D del video che poi, per approfondimento, come realtà aumentata, può essere visto. Ecco, questo è tutto. Grazie dell'ascolto. Arrivederci.